Pagosando, mi sono informato su questo Ubaldo Diciotti, questo augusto generale di marina, medaglia d'argento al valor di marina. Lui ha vissuto circa 85 anni e ha fatto tante cose, tra le tante, quando la Libia era una quarta sponda, è stato comandante del porto di Tripoli, poi è stato in America e quando è tornato, pensate dove ha messo a frutto la sua esperienza, ampliamento del porto di San Pier d'Arena, che è esattamente il porto davanti al Ponte Morandi, che allora naturalmente era in mente dei, solo coincidenze, Pagosando.